Io farò delle domande a Michele, così cercheremo di fare un dialogo fra di noi, cercando di parlare ovviamente del suo libro, ma magari trovando spunti del suo libro per pensare anche di quella che è l'attualità dei Balcani di questo periodo. Innanzitutto volevo chiederti Michele, l'idea del libro nasce perché hai conosciuto quella città magica che si chiama Sarajevo o ti è venuta l'idea della trama e hai pensato poi di inserire da Sarajevo? No, il libro nasce perché io ho vissuto molte guerre, ma quella dei Balcani, in particolare la serie Sarajevo mi sono rimasti nel cuore per molti motivi, perché io ho sviluppato rapporti umani molto profondi, ho percorso l'agonia di Sarajevo e poi anche la sua rinascita e tutto questo mi è rimasto nel cuore e anche perché mi sono accadute a Sarajevo le vicende, vicende molto simili a quelle che racconto nel libro, che in qualche modo avevo riposto in un angolo della mia coscienza e che poi per motivi che nel libro racconto sono riemerse e mi hanno costretto quasi a riflettere su quella guerra, dieci anni dopo diciamo, su quella guerra, sul mio ruolo in quella guerra e quindi un po' sull'esperienza, sulla vita, sul modo in cui i giornalisti si avvicinano alle guerre e a quella in particolare, su ciò che appare e su ciò che invece teniamo nascosto e una riflessione fatta dieci, quindici, vent'anni dopo anche diciamo in maniera abbastanza sincera, nel senso che metto a nudo nel racconto cose che non sono facili da mettere a nudo, nel senso appunto il voler apparire testimoni eroici di una vicenda drammatica, quando in realtà io, come tanti altri, in viati di guerra, viviamo un po' il, dico da virgolette, il gioco della guerra. Nel libro cerco di raccontare questo particolare aspetto che in fondo riguarda tutti, tutti quelli che vengono affascinati dal male. il libro racconta la storia di questo giornalista che ha vissuto una vita di grandi battaglie contro la mafia, contro i poteri occulti, contro la corruzione e che fa anche l'inviato di guerra e che si sente un eroe, si sente un uomo che sta sempre dalla parte giusta e quindi è molto superbo e molto inorgoglito da se stesso, si ama molto. Questo amarsi molto lo porta a voler essere sempre il primo, a voler battere i suoi colleghi, a voler arrivare prima sulle storie, raccontarle prima e meglio degli altri. E questo lo porta a commettere un eroe tragico che il libro racconta con un meccanismo che è quasi da noir, da giallo, ma che in realtà è tratto molto da esperienze della mia vita vissuta. E dopo questo tragico fatto accade, il giornalista è costretto a ripercorrere il suo agire e a dirsi che è stata la sua superbia, il suo sentirsi migliore degli altri, il suo volere primeggiare, a non fargli vedere l'errore che sta per commettere e a farlo cadere in una tragica vicenda. E l'altro aspetto è appunto quello del gioco, dicevo prima. La guerra, per chi l'ha vissuta da vicino, non da vittima, ma da spettatore, che lo sono comunque i giornalisti, può essere in alcuni momenti un gioco molto affascinante. L'adrenalina, lo stare vicino alla morte, anche rischiare la vita, ti dà una sensazione, un'eccitazione che è in qualche modo una sorta di droga. E questa è una cosa che noi giornalisti, come dire, tendiamo a tenere nascosta nel cassetto della nostra coscienza. Il protagonista del libro su questo riflette. E sì, per tornare alla domanda, tutto questo nasce ovviamente dal grande amore che io, come tre, come tanti altri, abbiamo, noi che siamo accostati alla città di Sarajevo, alla meravigliosa città di Sarajevo, alla sua cultura moltietnica, in quegli anni in cui tutto questo, la bellezza di Sarajevo veniva messa in un angolo, diventava quasi, come dire, attirava l'odio, attirava la violenza. È stata un po' l'amore per una città a quasi costringermi, dieci anni dopo, a riflettere su quelle vicende e a scrivere libro. Tu sei stato inviato in tanti scenari di guerra, molti anche nel Medio Oriente, però questo tuo, chiamiamolo Alter Ego, se possiamo chiamarlo che opera a Sarajevo, cioè questo esame di coscienza, questo sentire la guerra in modo nuovo avviene solo a Sarajevo, forse perché la guerra, la ex Jugoslavia è stata tra virgolette una guerra diversa rispetto alle guerre che hai vissuto in Medio Oriente. Sì, innanzitutto perché è una guerra tra genti che fino a poco prima convivevano più o meno pacificamente. E poi perché è una guerra che coinvolgeva persone estremamente simili a noi, simili a me, a Sarajevo, ma anche a Mostra, nei Balcani. Quelli che si sono avvicinati come me da giornalisti hanno intrecciato relazioni umane molto, molto strette, amicizie, eurofondi, o ancora oggi, coltivano. Perché la nostra cultura era molto simile a quello, io poi ho anche amici afghani, pakistani, libanesi, somali, tutti i dati di guerra, appunto perché si vive in maniera concitata, agitata, pericolosa, si stringono rapporti. Però l'amicizia che ho sviluppato per le persone che ho frequentato a Sarajevo, a Mostra, non l'ho sviluppata in altri paesi. E questo diventa essenzialmente appunto il fatto che, diciamo sempre, la guerra davanti casa. Abbiamo, nel vostro caso, la guerra sul pianerotto di casa. Abbiamo vissuto per anni, per quattro anni, una guerra a pochi chilometri dalle nostre vite, dalle nostre aree geografiche. E tutto sommato ci abbiamo capito abbastanza poco, non ci abbiamo riflettuto, non abbiamo fatto nemmeno tanto tesoro di quello che questa guerra ci poteva insegnare. per esempio, diciamo, nel non alzare muri, nel essere aperti rispetto a chi non ha in tasca, non ha un cognome, diciamo, della nostra stessa razza, ma un cognome differente. Non abbiamo, da questo punto di vista, diciamo, con l'esperienza, se noi poi quella guerra non ci ha insegnato un granché. Ecco, per quanto riguarda sempre il tema della guerra nex Yugoslavia, noi qui a Trieste, mi ricordo, avevamo una percezione precisa che qualcosa stesse accadendo. Parlo che noi la sentivamo già, ti do un'esperienza personale, io e Paolo Rumiz già nel 88-89 avevamo questa percezione. Io ho trovato invece i nostri colleghi che arrivavano da altre parti d'Italia assolutamente impreparati a seguire questa guerra. Cioè c'era gente che confondeva Slovenia con Slavonia, che non capiva dov'era pur essendo la prima guerra che scoppiava in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, secondo te questa impreparazione a un evento bellico e poi cruento come è stato quello nella ex Yugoslavia. Perché in Italia non è stato così sentito? Lasciamo perdere noi che eravamo terra di confine e quindi avevamo una percezione particolare di queste cose. Ma quando noi anche parlavamo con altri colleghi, parlo due o tre anni prima che scoppiasse la guerra ci prendevano per dei visionari. E diciamo state calmi, state tranquilli che tanto non succede niente. Ecco, perché questa percezione diversa? Diciamo così, da Roma rispetto a qualcosa che avveniva oltre adriatico tutto sommato, no? Non lo so, sai, io probabilmente ero tra gli ignoranti, nel senso che anche io quando sono... quelli erano anni, erano gli anni 90, erano gli anni in cui in Italia accadevano tante cose, stava crollando un sistema che aveva retto il paese per dal dopoguerra fino a quel tempo. Io personalmente per esempio mi occupavo moltissimo di mafia ed ero un esperto di mafia, ma non ero un esperto di Balcani. I Balcani non erano al centro della nostra attenzione, erano molto periferici per un giornalista romano o anche milanese rispetto al mainstream, alle notizie importanti. Sì, ma secondo me l'attenzione del giornalista si sposta là dove si sposta la politica, no? Cioè là dove si sposta l'interesse dell'opinione pubblica, che comunque è formata da un gruppo dirigente. Quindi secondo me c'era una disattenzione nei confronti di quello che succedeva oltre adriatico da parte di quelli che davano l'Italia, cioè un disinteresse proprio... Cioè, il sistema politico italiano stava implodendo, stavano emergendo figure nuove, nei vecchi, nei nuovi avevano grande attenzione per ciò che accadeva fuori dai nostri confini. Che è chiaro che tu, Rumiz, avete una sensibilità particolare perché vivete al confine. Per noi, e lo parlo anche per me stesso, come dire, i Balcani erano un mondo lontano e misterioso. Ti confesso, visto che nel libro è pieno di confessioni, confesso anche alla mia ignoranza. Io arrivai per caso a Mostar nel giorno in cui i croati stavano attaccando le zone serbe per riprendersi la città. Non avevo mai sentito parlare di Mostar ma non sapevo bene cosa fosse. E nel mio reportage, visti i quattro giorni infernali a Mostar sotto le bombe, e nel mio reportage dettato al telefono da, non mi conto, da dove è appena uscito, diciamo, dalla zona di guerra, scrissi, siccome ero arrivato dalla zona industriale di Mostar, e non avevo visto minimamente la zona perché stava in mano, che erano quelli che cittavano le bombe, io scrissi che Mostar era un'anonima cittadina industriale del centro della Bosnia, lo dico da ignorante, perché effettivamente non serviva nulla. Ero arrivato lì, avevo avuto il tempo, e l'altività era scappiata in fretta, avevo avuto il tempo di leggere quattro cose, ma naturalmente non di farmi una cultura, diciamo, specifica, sul Balcani, come ce l'avevo sulla mafia, sui servizi ai rieviati, su altre vicende di cui mi interessavo, e quindi arrivai lì da ignorante. Il che, il che non ti, diciamo, è naturalmente una debolezza, però non ti, malgrado l'ignoranza riesci poi a entrare dentro le cose, poi alla fine tu sei un essere, tu non devi spiegare il mondo, allora tu devi raccontare quello che vedi, stai vivendo una realtà eccezionale, devi prendere un penna taccuino, segnarti tutto quello che vedi, e poi diventare un italiano accettabile. L'idea che siamo noi a spiegare il mondo, diciamo, è un'idea che io ho nutrito quando ero un giovane giornalista idealista, oggi non lo penso più, appunto, è la superbia che ci spinge a pensare che noi giornalisti dobbiamo spiegare il mondo ai lettori. Noi possiamo dare delle coordinate, delle impressioni, degli schizzi, dei ritratti, e poi però sarà chi è interessato a farsi un'idea. Senti, però un personaggio come Amos Profeti potevi incontrarlo solo nei Balcani. Sì, quello sì. Amos Profeti è un personaggio, è il male, così come Luca Banti, nel mio arterego dell'Italia, è convinto di essere il perno. Amos Profeti è il male, è un italiano che ha riuscito nei Balcani, combatte nei Balcani, uscita nei Balcani. Ed è testimono verso altri, come quell'ambiente, proprio perché viene rattalice, proprio perché, ecco, Amos Profeti non potrebbe lasciare il suo paese, Mantua, e andarsene a combattere in Libano, perché gli mancherebbero le coordinate, la lingua, la capacità di avvicinarsi, di entrare in quel mondo nel modo atroce che lui ha di farlo. Può farlo nei Balcani perché trova un ambiente che in qualche modo conosce. E il libro è appunto il racconto di questa interazione drammatica tra il bene e il male, tra Luca e Amos. Luca è convinto di poter, appunto, che si sente migliore, più intelligente, più buono, più bravo, è convinto di poter utilizzare Amos e soltanto alla fine si accorgerà che è stato per tutto il tempo. E lo rincontro Amos a utilizzare lui, sfruttando appunto la sua cecità, la sua superbia, la sua voglia di arrivare primo dove gli altri giornalisti non arrivano. E sì, è vero Amos, profeti, così come tanti altri, come lui, italiani che andarono a combattere in Croazia, generalmente in Croazia, tra le file, diciamo, delle milizie paramilitari di estrema destra. È un prodotto tipico di quella di quel tempo. Senti, io nel libro ho annotato una frase che mi ha colpito molto e mi ha molto, mi ha fatto collegare la cosa col presente. Tu a un certo punto scrivi, naturalmente però io ero quello fuori luogo rispetto alla situazione. Il fatto è che non si torna mai del tutto indietro da una guerra. Cioè tu eri tornato indietro, eri, 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 tu o il personaggio, sei in vacanza con la figlia in Sicilia e come succede agli inviati di guerra, questo posso testimonare nonché io, la guerra te la porti dentro, non riesci a staccarti. per cui il protagonista prova fastidio nel sentire gli altri commensali che si lamentano per delle inezie quando lui aveva visto delle cose terrificanti che avvenivano proprio alle porte di casa. Ecco, non si torna mai del tutto indietro da una guerra. E io ho fatto questa riflessione. Nazionalismi e populismi, che sono molto di, chiamiamo, di moda in questi tempi, stanno lavorando, secondo me, affinché anche e soprattutto le giovani generazioni che non hanno conosciuto la guerra, non tornino dalla guerra. Secondo me, da quanto c'è in questo libro, le sensazioni che hai leggendo questo libro, è comunque sia proiettate su quello che è la situazione balcanica di oggi, sia quello che è la situazione europea di oggi, che in Europa si sta, tra virgolette, balcanizzando in questo momento, perché vediamo un'Europa che si sta letteralmente sfasciando, che non riesce a trovare una sua identità e i nazionalismi e i populismi stanno avendo il sopravvento, non con i carri armati, ma con l'arma democratica del voto. E questa io la chiamerei una rivoluzione silenziosa che sta avvenendo in Europa, che è l'indice di una voglia di cambiamento. Ecco, che cosa non dobbiamo, cioè qual è il pericolo più grosso, cioè il virus dei Balcani può infettare l'Europa e cosa dobbiamo fare per cercare di, come dire, vaccinarci contro questo virus? Guardi, mi ricordo un episodio di tanti anni fa, avevo appena conosciuto Karadzic, il leader dei serbo-bosniaci, che è uno dei grandi protagonisti di quella guerra, uno dei grandi eccitatori di quella guerra. Passai con lui una notte, che racconto anche nel libro, sulle montagne, intorno a Palacan, e pochi giorni dopo, che tornai in Italia, mi invitarono a Samarkand, non so se si chiamasse già ancora da Samarkand, già il Rosso e il Nero, insomma, il programma di Michele Santoro, a parlare di altro, a parlare di mafia, insomma, non mi ricordo bene di che cosa, ma è lì, tra gli ospiti c'era Umberto Bossi, che all'epoca era, diciamo, il leader della Lega Nord, che all'epoca voleva staccare la patagna dall'Italia, voleva fare la secessione, esattamente quello che voleva fare Karadzic nelle sue terre, e mi impressionò la vicinanza, un po' anche fisica, i capelli bianchi, l'aspetto un po' truce, anche questo modo apocalittico di parlare, ma soprattutto, come dire, le argomentazioni, no? Noi siamo noi, gli altri devono stare fuori, ma gli altri sono i nostri, quelli che non hanno il nostro, non si chiamano appunto Pergonzoni, che si chiamano Karuso, che sono i nostri nemici soltanto, perché si chiamano Karuso, che se ci pensate è la più grossa stupidaggine che si possa pensare. Siamo arrivati al punto, 30 anni dopo, 25 anni dopo, che quella che all'epoca era, appunto, potevano sembrare le farneticazioni del giovane Bossi, del giovane Karagi, sono entrate nel linguaggio comune, nell'uso comune. Oggi noi siamo tutti in guerra permanente contro qualcun altro, che possono essere un giorno i siciliani, un giorno i somali, un giorno i neitrei o i siriani che scappano dalla guerra. Abbiamo bisogno di nemici. In una società che ha perduto, come dire, ha visto crollare le ideologie, ha visto crollare il sistema di valori che ci dividerano, ci diventano dentro un terreno comune, potevano essere comunisti o democristiani, ma comunque eravamo italiani e non vedevamo fuori dai nostri confini un nemico pronto ad assalirci e a rubarci via la proprietà e la famiglia. Da quel sistema siamo passati ad un altro sistema in cui non abbiamo più un grande sistema di valori, una grande rete di valori condivisi e siamo tutti quanti alla ricerca di un nemico. E in questo i politici di oggi sono bravissimi ad agitare queste paure e quello che 25 anni fa erano un po' le farmigazioni di Karadzic e di Bossi che a me sembravano incredibilmente uguali, oggi sono diventati un luogo comune. Siamo tutti raccordi sul fatto che ci sono dei nemici alle porte che bisogna respingere e che la nostra identità si forme in quanto ci sono quei nemici. Bossi ha fatto un percorso alla fine al fascismo. Karadzic invece ha avuto quello che voleva parlare di una guerra. Quello che è vero è che non abbiamo saputo metabolizzare, imparare nulla da quelle vicende e oggi l'Italia, l'Europa, come dicevi tu, è un grande paese balcanico, anzi è una miglia di paesi balcanici che si guardano con sospetto l'uno con l'altro e che sono pronti a scendere in guerra, per fortuna solo verbale l'uno contro l'altro. Sì, un'Europa che di punto in bianco si vede con l'Inghilterra che se ne va, la Gran Bretagna che se ne va e vede nel suo cuore come in Spagna la Catalogna che mira risultamente all'indipendenza, il punto che la Spagna non ha mai riconosciuto il Kosovo per questo, perché se crea un precedente poi in casa sua gli succede il 48. Ecco, tornando all'attualità, tu hai vissuto il perché, hai vissuto cosa è successo nel ex Jugoslavia in quei tempi. Nel 95 c'è stato il trattato di Dayton, diciamo un trattato un po' estorto perché li hanno portati in questa località americana, gli Stati Uniti, li hanno tirati un po' per le orecchie e gli hanno detto guardate se non volete che facciamo tavola rasa con i bombardamenti è meglio che ci mettiamo d'accordo. E' andata bene per quasi tutti i paesi, il paese più complicato ovviamente qual era? Era la Bosnia. La Bosnia perché presentava una mescolanza etnica assolutamente, una ragnatela all'interno del suo territorio come l'aveva disegnato Tito a suo tempo come Repubblica, di etnie. Dayton gli ha dato una Costituzione che ha retto fino adesso. C'è però, diciamo così, un cancro in questa società politica che si è creata. Cioè i partiti che hanno preso corpo dopo Dayton sono partiti etnici. Cioè noi non abbiamo, come negli altri paesi, un partito liberale, un partito socialdemocratico come abbiamo in Croazia un partito nazionalista di destra e l'HDZ e poi abbiamo i socialdemocratici dall'altra parte. In Slovenia ci sono più formazioni, ci sono anche formazioni di centro, cosa che in Croazia magari a parte i popolari non esistono. Ma lì i tre partiti principali sono partiti etnici. Cosa succede? Che quando poi la Costituzione è, io l'ho scritto il primo giorno che l'hanno deciso, la Costituzione della Bosnia è la Costituzione della Jugoslavia in fatta in miniatura. Cioè è fatta in modo che non si riesca a decidere, perché la presidenza della presidenza collegiale, una volta era un organismo del partito comunista, adesso è un organismo dei partiti interetnici. E che cosa succede? Che bisogna approvare le varie deliberazioni hanno una unità, cioè le varie etnie hanno diritto di veto. Quindi quando la serba propone una cosa, c'è la musulmana che alza la mano e dice non ci va bene, la Bosnia sta vivendo uno stallo di 25 anni e si trova decisamente indietro rispetto agli altri paesi anche nel percorso di adesione all'Unione Europea, che anche magari ti farò una domanda dopo. Ecco, a me l'ambasciatore di Sarajevo, devo dire con il nuovo ambasciatore di Sarajevo, con l'italiano, con mia molta sorpresa, mi ha detto ufficialmente che Dayton dovrebbe essere riscritta. Non è stato richiamato, quindi vuol dire che non ha fatto tanto male. Ecco, secondo te Dayton non andrebbe riscritta, ci vorrebbe il coraggio di mettere mano a quell'accordo per riuscire a... Beh, sarebbe, vorrebbe dire, Coq, più di tu hai detto all'inizio, li hanno presi per le orecchie le ferite sono ancora troppo troppo aperte, troppo doloranti, perché si possa... Diciamo che la soluzione è stata sicuramente la peggiore, quella di appunto di rassegnare... Tito faceva un po' così, però lo faceva in tempo di pace, lo faceva per evitare che si avessero le ferite, che si avessero un conflitto interetnico. La stessa cosa fatta dopo il conflitto interetnico ovviamente non funziona, perché più tu radichi le... Le stanchi, le varie... Sì, i partiti politici sulla base etnica, come hai detto, e più tu mantieni vivo il ricordo di quello che si è stato, del massacro, dell'odio l'uno per l'altro, per cui non vedo soluzione, se non appunto il tempo che rimangina lentamente le ferite. Però se c'è qualcosa che non aiuta a rimanginare le ferite è la divisione per etnie. Bisogna fare esattamente il contrario. Oggi prenderli, anche perché oggi sono create situazioni di fatto, no? Potere di fatto, piccoli gruppi di potere, che sulla base dell'odio etnico e dell'appartenenza etnica hanno conquistato poltrone, ruoli e quindi potere e quindi denaro. E questa gente non la scordi facilmente, perché andarsi a riscrivere tutto quanto sulla base della politica e non dell'etnia è molto molto complicato. Senti, Sarajevo 25 anni dopo è cambiata, anche da un punto di vista più tetonico. I primi che sono intervenuti con gli interventi sono ovviamente gli arabi che hanno ricostruito le moschee, tutte uguali, in stile arabo. E adesso con l'arrivo dei migranti, soprattutto con l'espansione dell'Islam verso l'Occidente, c'è stato il fenomeno anche di una certa islamizzazione di Sarajevo. Non dimentichiamo che a nord di Sarajevo esistevano dei campi di esercitazione di salafiti. Io mi ricordo che intervistai all'allora ministro degli esteri, bosniaco, che era un serbo, e quando gli chiesi appunto conto di questi campi dell'estramento cosa pensavano di fare, la sua risposta è fin quando non vionano la legge, per me possono stare là. Un serbo. Ecco, io sono stato a Sarajevo, io ho anche un amico, fa il tassista, mi ha portato sempre, facciamo sempre i nostri giretti, ci parliamo, guardiamo, e gli ho chiesto di questi nuovi arrivi, gli ho detto, sì, sono quelli con la barba. Ah, gli ho detto, dove sono? Ah, sono nel rione, lì, dove se ne andassero andati i miei serbi, comprano tutti gli appartamenti. Ah, gli ho detto, ma tu sei stato là? Sì, sono stato anche, perché lui è praticante, proprio, il musulmano è praticante, va in moschea, sono stato in quella moschea, e com'è? Cioè, gli imam cosa fa? Cosa dice? Ah, io non ho mai sentito quelle preghiere, quello non è islam, mi ha detto. E questo fa pensare, no? Cioè, in un paese che comunque ha parole, politicamente, è proiettato verso l'Unione Europea, no? Tu hai proprio nel cuore dell'Europa un, come ti posso dire, un avamposto dell'islamismo radicale che può diventare assolutamente pericoloso. pericoloso. Non se ne parla. Nessuno tira fuori questa cosa, nessuno ne parla, l'Unione Europea, figuriamoci. Non neanche... Ecco, c'è un rischio anche perché la Turchia, ovviamente, Erdogan, molto furbo, sta dando molti soldi alla Bosnia. Erdogan, nella sua campagna elettorale per i turchi che sono in Europa, visto il veto ottenuto dalla Merkel per andare a farlo in Germania, lo ha fatto a Sarajevo, il suo grande comizio preelettorale. Ecco, questo ci deve far pensare a cosa, secondo te? Tu che hai vissuto questa magica multietricità che comunque si respirava anche durante la guerra a Sarajevo. Sì, anche ora, appunto, durante la guerra si cominciavano a vedere, no? Le presenze, c'era la presenza, c'era la presenza islamica. C'era la presenza islamica. C'era la presenza islamica. C'era la presenza islamica. Sì, portavano le armi. Si vedeva l'avvio di una radicalizzazione estremista islamica in una città, appunto, che non aveva nessuna connotazione religiosa a me dall'una e dall'altra parte. Non vedo, diciamo, un pericolo per l'Occidente nella ditandazione di Sarajevo. Vedo uno degli effetti traumatici di quella guerra. Era ovvio, così come in Croazia si sono rafforzati i nazionalisti, gli estremisti di destra, in Bosnia si sono rafforzati i primi mujahedin, io li ho visti, io li ho visti prima in Libano e poi il Sarajevo. Li ho visti in Libano, nella Bekaa, nell'89, e poi li ho rivisti, i vestiti allo stesso modo, con le stesse bandiere, li ho rivisti, con mia grande sorpresa, a Zeniza, che era una città intorno a Sarajevo, dove avevano un posto installato durante la guerra una sorta di base. E senza dubbio da lì molti di quelli che poi hanno cominciato a combattere da ragazzi in Bosnia e poi sono finiti da grandi nell'Isis, con Al-Baghdadi. È stata, come dire, una grande incubatrice della guerra in Bosnia dell'estremismo islamico. Ecco, senti, tu sei stato a Pale, sei stato a parlare con quel poeta Karasic, no? Che recitava le sue poesie. che impressione ti ho fatto? Io sono sempre rimasto molto colpito dalla vicinanza geografica di Pale su Sarajevo. Cioè, era inconcepibile una linea di fronte, del fronte, così attaccata alla città e questo, come ti posso dire, questo volerla far morire piano piano, quasi a volerla torturare. Ha avuto anche tu la testa in pressione? Sì, sì. Sarajevo potrebbe essere presa in un giorno. Cioè, i serbi potevano tranquillamente bombardarla a tappeto per tre giorni e poi scendere sulla città e prenderla. Non lo hanno mai fatto, ma io sono testimone, come dire, dei traffici che c'erano. I serbi facevano entrare merci a Sarajevo in cambio di tangente attraverso il famoso tunnel che io ho attraversato e quando volevano aumentare i prezzi delle merci che facevano entrare, ammazzavano qualcuno, bombardavano qualcuno all'ingresso del tunnel o bombardavano direttamente all'ingresso del tunnel, in modo che la paura e il rischio aumentato di ingresso e di entrata nella città facesse aumentare anche il prezzo delle merci. In realtà, credo che i serbi di Sarajevo non sapessero che farsene, perché una volta che l'avessero presa erano costretto l'Occidente a intervenire. Invece, tenendola sulle spine, diciamo, circondandola senza mai affondare il colpo, sono riusciti ad andare avanti per due anni e a sedersi in un tavolo di pace come, tra virgolette, quasi vincitori. Poi l'errore l'hanno fatto in Kosovo subito dopo, ma dalle atrocità commesse in Bosnia sono uscite abbastanza, come dire, in piedi. Quello che a me mi colpiva era il vittimismo. Cioè, un uomo che sta fomentando l'odio, che è responsabile all'epoca dei primi scontri, che si sta preparando a circondare e aggredire una città che è stato già fautore di molte pulizie etniche nelle zone intorno, un uomo che con la forza sta per aggredire una città inerme, che fa la vittima, che dice che è colpa degli altri, che dice che ci sono quelli che li vogliono, che ci sono fuori i potenti, i radical, i poteri forti, la massoneria e la sinistra che lo vogliono distruggere, che vogliono distruggere il suo popolo. Il vittimismo di Karadzic oggi, se ci fate caso, è diventato, un'idea, la cifra politica di molti leader, che in mancanza di argomenti, in mancanza di proposte politiche, in mancanza di un progetto di crescita dei loro rispettivi paesi, non sono capaci altro che di fare le vittime, che di dire che è colpa di tu, che tutti ce hanno con loro, che tutti li vogliono aggredire, che loro si stanno difendendo e che bisogna stringersi a corte per respingere l'ipotetico assalto. Questo vittimismo che io ho visto per la prima volta nel leader politico, nonché criminale di guerra, Rado Van Karadzic, oggi è diventata uno dei linguaggi preferiti della politica, chiamiamola populista, sorranista, quello che è, però questo è. Ecco, un'altra riflessione che mi viene da fare, anche nel tuo libro, vedendo personaggi come Amos Profeti che si muovono in questo magma, che era la Guarnia Exusdavia. La Guarnia Exusdavia è stata anche un grande affare, come hai potuto anche scrivere tu. Si muovevano criminali, organizzazioni mafiose, traffico di armi. Ecco, l'impressione era che non si volesse fare una grande offensiva, diciamo così, un'avanzata forte proprio per permettere che questo magma coprisse questi traffici. Non per niente ne sono venuti fuori personaggi come Erkan, che è diventato miliardario proprio attraverso il traffico di armi e di droga attraverso i Balcani in fiamma. Ecco, un'altra stranezza che io ho sempre notato in questa guerra è che la Serbia, ad esempio, aveva un'aviazione, non dico pari a quella che poteva schiarare la NATO, però insomma avevano i loro Mi-29, avevano un'aviazione, quella che era l'aviazione dell'ex Jugoslavia, ce l'avevano loro a Belgrado. Non hanno mai fatto decollare alcun aereo. Cioè, era una guerra nomad? Sì, era una guerra che si chiama una guerra a bassa intensità. Nel libro racconto l'incontro che ebbi con un trafficante d'armi, ne parlavo stamattina, oggi vorrei dire con Gaspare, un incontro che ebbi con un trafficante d'armi a Bled, qui vicino in Slovenia, dove aveva una specifica stella, e lui mi si ha letto che stava scrivendo un libro sul traffico d'armi in Bosnia, appunto perché, vista con gli occhi del commercio, quella guerra risultava incomprensibile, perché i serbi, i croati vendevano armi ai serbi, i serbi vendevano armi ai bosniaci, e poi con quelle armi si sparavano addosso l'uno contro l'altro. E io chiesi all'esperto, al trafficante d'armi questa stranezza, e lui mi disse, mi faceva un discorso un po' folle, ma dal suo utilista del tutto ragionevole, che diceva, noi somministriamo le armi, no intanto facciamo soldi ovviamente, e qui è più la guerra dura, è più soldi facciamo. Ma noi lo facciamo con intelligenza, perché noi somministriamo armi sapendo esattamente a quanto tempo durerà questa guerra in relazione alle armi che forniamo. Perché noi potremmo anche non dare un solo paese, una sola etnia in questo caso di armi e lasciare che distrugga le altre. Ma questo non sarebbe un bene, perché in questo modo le ragioni che hanno fatto nascere il conflitto non verrebbero risolte. Il conflitto finirebbe in un periodo troppo breve di tempo, e nell'arco di pochi mesi si riproporrebbero gli stessi problemi. Se non piace mai una guerra la facciamo durare per un lungo tempo, estenuiamo tutte le forze in campo, civili, militari, opinione pubblica, stampa, poteri forti e quant'altro, quando la faremo finire? Quando ci sarà una produzione da parte di tutti, verso un accordo. E quindi la facciamo durare tanto. Sottinteso, più dura e più noi ci guadagniamo dei soldi, quindi facciamola durare un bel po'. Ma è un ragionamento, sì, che in qualche modo risponde alla tua domanda. Io ho visto a Vikas, per esempio, dei serbi che noleggiavano un carro armato, chiunque lo volesse, per 500 euro al giorno. Con anche i carristi veniva... scusa, 500 marchi al giorno, quando ragionavamo i marchi, veniva mille marchi con i carristi pronti. e quindi eravamo quasi al paradosso della guerra, di quello che succedeva. Cioè, paganiare, business... La guerra, no, rent, tanto. Rent, tanto, sì, esatto. Allora, vediamo di arrivare alla parte finale, guardando al futuro. L'Unione Europea ha deciso di allargarsi nei Balcani occidentali. Non è certo un discorso che avverrà né domani né dopodomani. Anche perché, come vediamo, è un discorso molto complesso, è un discorso che vede emergere di nuovo le ferite della guerra, perché il conflitto è contenzioso tra Serbia e Kosovo. È, diciamo così, un relitto che naviga un po' alla cieca di quel conflitto. Un relitto che forse le diplomazie al tempo di Dayton non se l'aspettavano, anche se il Kosovo è posteriore a Dayton. i bombardamenti sono del 1999, il 16 marzo 1999. Per cui, secondo te, l'idea di abbracciare questi stati nell'Unione Europea, o comunque di dare a loro questa carota di venire dall'Unione Europea. È una politica giusta da parte dell'Unione Europea oppure si dovrebbe agire in qualche altra maniera? Ti pongo di fronte il caso serbo, con il primo passo tu sei per l'ingresso all'Unione Europea e l'ingresso nella NATO. E poi si entra in Unione Europea. La Serbia, che amoreggia favolosamente con la Russia e con Putin, che ultimamente gli ha regalato anche degli aerei che a lui non servivano, ha detto che le NATO non entrano, sono nella partnership for peace, però loro vogliono entrare nell'Unione Europea, vogliono essere l'Aceania. Ecco, ci credi? Guarda, io non sono un politologo, non sono un esperto di... La mia opinione non è, non conta, non granché. Penso in generale che se l'Unione Europea apre, io penso in politica, non so se vince, ma si muove bene chi accoglie e non chi si chiude. Quindi se l'Unione Europea riesce a portare nel suo alveo paesi che hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di pace, hanno bisogno di una politica forte, hanno bisogno di imparare, sono paesi che sono regrediti a uno stato primordiale e che oggi vanno reinseriti in società, se fossero persone andrebbero reinseriti in società. Penso che se l'Unione Europea riuscisse a fare questo sforzo farebbe una cosa buona e anche però ve lo dico non da esperto del ramo. Concludiamo con un'altra cosa che mi ha colpito del libro. Non mi sarei mai aspettato alla fine questa volontà del protagonista di eliminare fisicamente Amos quando aveva la possibilità di farlo e di rimanere assolutamente impunito. E poi anche un'altra cosa volevo chiederti, perché questo personaggio, questo giornalista che comunque ha vissuto in prima persona, sto parlando di personaggio, che ha avuto le guerre, ha avuto questa, tra virgolette, redenzione molto atroce proprio a Sarajevo, perché poi accetta questo posto di lavoro così fuori posto per lui assolutamente, diciamo che tra virgolette stupido per uno che ha fatto questo tipo di lavoro. Luca Bantino spiega, essendo stato molto superbo, accettare quel posto di lavoro, che chiaramente è un modo per umiliarlo, lo fa perché in questo modo dimostra a se stesso di non essere più superbo. lui dice, non sono più nulla, quindi posso fare qualsiasi cosa. E in quest'ottica accetta il lavoro. Riguardo al desiderio di uccidere, che poi ovviamente quella sia un pezzo di fantasia del libro, io credo che al centro libro c'è, come dire, al centro libro c'è la guerra e c'è la grande questione che la guerra mette in gioco, che al fine di tutto è quello della dignità dell'uomo. Tutti noi, in fondo, se ci fate caso, al di là, tutti noi viviamo per la famiglia, per il successo lezionale, per l'amore, ma alla fine, alla fine delle cose, la cosa per cui viviamo è la nostra dignità, no? Vogliamo essere dignità, vogliamo avere una dignità nel mondo, vogliamo che la gente ci rispetti quando andiamo per strada. Quello che la guerra fa, oltre a entrare a... La cosa più profonda che la guerra fa, anche quando non ti ammazza, non ti ferisce, è di toglierti la dignità. Perché? Perché la guerra sovverte tutti i valori. Tu puoi essere un avvocato, un medico, un ingegnere, un meccanico, un bravo padre di famiglia. Tutte queste cose la guerra te le toglie. Perché tu mi amici. Sì, perché vince chi spara, vince chi urla, vince chi esercita la violenza. E la tua dignità ti viene tolta. Devi conquistarla in altre forme e in altri modi. Per esempio, quello che ho scoperto, una delle cose che la guerra ha insegnato è che le donne riescono a mantenere la dignità in guerra molto più degli uomini. Gli uomini o si abbrutiscono o combattono. Le donne, per esempio a Sarajevo, se Sarajevo è riuscita ad andare avanti per quattro anni, più di quattro anni, dentro l'assedio, è stato grazie alla dignità delle donne, che hanno continuato a portare tutte le sei in tavola qualcosa da mangiare, che coltivavano orticelli nei luoghi più reconditi della città, che andavano a fare la fila per il pane e per l'acqua spesso, venendo ammazzate mentre facevano quella fila. E lo facevano perché continuavano persino a truccarsi, e a mettersi le calze velate durante la guerra. E tu dici, ma perché una donna che potrebbe essere ammazzata da venti minuti esce da casa con quel trucco? Perché quelle donne salvaguardavano la propria dignità. La questione più grande che la guerra pone è quella di mantenere, salvaguardare la dignità. Nel libro Luca Banti, Udesidera uccidere Amos, perché è il modo in cui può recuperare la propria dignità, può tornare a guardarsi allo specchio senza vergognarsi di se stesso. Ecco sì, il ruolo delle donne, non a caso il movimento di Srebrenica è stato fatto dalle mamme di Srebrenica, quindi il ruolo delle donne è uscito fuori in maniera forte. Dignità che comunque io ho trovato anche molta dignità nelle maree di profughi che se ne andavano dalla guerra. Erano persone assolutamente dignitose che non volevano la pietà ma volevano il rispetto per quello che stavano perdendo. Questo è un fatto molto importante. Soprattutto era gente che voleva tornare. E molti sono tornati, bisogna dire. Forse la stampa, perché sai noi siamo sulla notizia, poi dopo tre giorni la notizia puzza, e dobbiamo trovarne un'altra. In effetti sarebbe bello poter raccontare quelli che sono tornati, la sensazione che hanno provato, perché tanti sono tornati e hanno avuto il coraggio di tornare. Altri purtroppo non sono potuti tornare, perché le loro aree sono state prese da un'altra. Sto parlando soprattutto dei cervi della Craina che non sono più potuti tornare. Storia della Craina, delle Craine che è una storia assolutamente, tra virgolette, incredibile e che pochi conoscono. L'operazione Tempesta. Nell'operazione Tempesta sì con gli americani che hanno dato una mano non indifferente al generale eroe della Croazia, ma le Craine sono nate perché l'Austria-Ungheria quella volta aveva assoldato, tra virgolette, i soldati servi e li aveva posti nelle Craine e li usava come antemurales cristianitatis, dicevano loro, perché dovevano fermare i turchi. E da lì, storicamente, poi si sono insediati questi servi in quell'area là. Adesso non ci sono più perché ormai quelle aree là sono assolutamente croaticizzate, come si può dire. Bene, io volevo farti due domande. Le ultime domande sono al curare. La prima è... Ho fatto sette guerre. La prima è... La prima è perché scopriate la guerra nell'ex in Uglavia e la seconda, così ci puoi pensare, qual è l'insegnamento che dobbiamo trarre da una guerra? La seconda è facile. Perché nata la guerra o sei tu meglio di me? Forse no, eh. Forse no, eh. Bene? Forse no. Cioè, dentro una crisi economica che attanaglia il Paese che mette in discussione, come dire, gli equilibri, i poteri costituiti, il potere, in mancanza di altre idee migliori, chi può pensare che la soluzione sia additare, come responsabili, appunto, gli altri, fare un po' le vittime e dire è colpa dei croati, se io, Milosevic, non sono in grado di mantenere il PIL alto quest'anno, siete in crisi economica, pigliate la procurata di C2.4, pigliate con quelli che senti dei bosniaci che continuano a chiederci soldi. Diciamo, detto in maniera molto nozza, io credo che, diciamo, affondando radici nell'antipatia etnica, nella diffidenza tra etnie che, specialmente non a Sarajevo, ma, diciamo, nelle zone rurali del Paese, era presente e avvertita, affondando le radici in questo subostrato psicologico, i poteri all'epoca al governo centrale di quella che si chiamava Jugoslavia hanno pensato che la soluzione più semplice fosse quella di indicare un nemico. A loro volta c'erano appetiti, la Slovenia, la Croazia, avevano gruppi di potere interessati a staccarsi per poter creare nuovi parlamenti, nuovi posti di potere, moltiplicarli per quattro invece che per uno, e quindi, credo, crozzamente che da lì sia nato tutto. Cosa ci insegna la guerra? Ci insegna che non si può, non si deve odiare chi ha torto o ragione è diverso da loro. possiamo anche non andarci a cena insieme, ma prenderlo come il nostro nemico e farne la nostra ragione di esistenza politica, come sta accadendo oggi anche qui da noi, è il più grave torto che si possa fare all'intelligenza, alla ragione, all'umanità e all'essere uomo. A presto! A presto!